E' ufficialmente partito e il primo trofeo Ussi Padel Cup invita un amico, organizzato dalla sezione Umbra dell'Unione Stampa Sportiva Italiana in collaborazione con MSP Italia. Presso gli impianti delle Tennis Country Sporting Club di San Martino in campo, nella sola giornata di giovedì 5 maggio sono stati disputati gli incontri della categoria misto che hanno visto trionfare la coppia Meattelli-Covino che nella finalissima hanno battuto 6-1-6-4 la coppia Cesaroni-Micillo. Il gruppo Ussi Umbria ha voluto ringraziare tutti i colleghi ed amici che hanno partecipato a questo primo torneo, con un ringraziamento particolare a Marco Bertolini e al suo staff per aver messo a disposizione la struttura di San Martino in campo. Alle premiazioni del torneo misto hanno presenziato il presidente dell'Ussi Umbria Antonello Ferroni e i consiglieri Antonino Caravella e Stefano Giommini. Il torneo proseguirà giovedì 12 maggio con finale prevista giovedì 25 maggio, protagoniste questa volta le coppie della categoria maschile sui campi da gioco delle Tennis Country Sporting Club di Perugia e delle Ternana Paddle di Terni.